E salve a tutti ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovo video, mi siete mancati. In attesa di parlare dei nuovi Mac, MacBook e iMac rilasciati da Apple ufficialmente con il nuovo chip M3, in questo video news voglio fare un riassunto di tutti i rumors e leaks che si trovano in giro sul web per tutti quei prodotti Apple che non sono ancora usciti. Infatti ci sono tantissime novità e anticipazioni per tutta una serie di prodotti Apple differenti fra loro che dovrebbero uscire a fine 2023 o anche per tutto il 2024. Tra queste avremo anche qualche indiscrizione sugli iPhone 16. Pensate, sono usciti da pochissimo i 15 e già abbiamo delle novità, seppur ovviamente scarne, sui 16. Ma parleremo anche di iPhone SE di quarta generazione, dell'Apple Vision 2, anche se non è ancora uscito l'uno, e di tante altre cose. Sarà un video riassunto dei rumors e leaks come ai vecchi tempi. E voglio iniziare proprio dai rumors riguardanti l'iPhone SE di quarta generazione. Ormai il suo rilascio è praticamente sicuro, non si sa ancora bene quando, ma potrebbe tranquillamente venire rilasciato intorno al mese di marzo 2024. Tanto che addirittura si conosce il suo identificativo interno, viene riconosciuto come dispositivo D59, e il suo nome in codice che è Ghost, come diciamo progetto interno di Apple. Ora, per chi non lo sapesse, l'iPhone SE è il modello budget, diciamo economico, economico tra virgolette, dell'iPhone. Siamo rimasti all'iPhone SE di terza generazione, che ormai è uscito proprio a marzo del 2022, e che ricalca, diciamo, il look dell'iPhone 8, quindi abbastanza vecchiotto. Infatti è risaputo comunque che per le scocche degli iPhone SE, Apple riutilizzi quelle degli iPhone precedenti, apportandoci giusto qualche lieve modifica. Ebbene, si pensa che finalmente per la quarta generazione, anche perché Apple non avrebbe molta altra scelta, utilizzerà finalmente come riferimento la scocca, non più dell'iPhone 8, ma degli iPhone 12, 13 o 14. Quindi questo dovrebbe essere il suo design e la sua estetica. Non è ancora ben chiaro se presenterà il Touch ID o il Face ID, perché come sappiamo attualmente tutti gli iPhone SE hanno sempre presentato il Touch ID, nessuno di loro ha mai avuto il Face ID, probabilmente anche perché è leggermente più economico, ma con un eventuale SE 4 saremmo davanti ad un problema, perché non avrà più il tasto Home. Quindi le ipotesi sono due. O manterrà il Touch ID, quindi il riconoscimento con l'impronta digitale, incorporato nel tasto di accensione, cosa che comunque è già stata fatta sugli iPad Air, quindi in realtà non è una scelta così strana, ma c'è anche chi pensa che Apple opterà per l'abbandonare il Touch ID e introdurre il Face ID, proprio perché comunque negli iPhone SE Apple non ha mai apportato grosse modifiche ai bottoni o alla scocca, quindi l'aggiunta di un sensore di impronte digitali nel tasto di accensione andrebbe un po' contro questa filosofia. Ma prima di continuare, dal momento che siamo in pieno Black Friday, ho un consiglio, un sincero consiglio per voi che vi farà risparmiare tanti soldi sul lungo periodo. E sto parlando di Letyshops. Per chi non lo conoscesse, si tratta del sito per eccellenza che vi permette di ottenere un cashback ogni qualvolta che acquisterete su uno dei migliaia di negozi online supportati. Vedete infatti qui nella homepage innanzitutto lo storico di tutto il cashback accumulato, significa che in due anni di utilizzo circa ho risparmiato usando Letyshop quasi 300€ su tutti gli acquisti che ho effettuato, ovviamente questo va in proporzione in base a quanto spendete, dato che è una percentuale, ma per darvi una panoramica di funzionamento, una volta registrati al sito tramite email e password, basterà cliccare sul shop da cui vogliamo effettuare un acquisto, vedete che il cashback in media va dall'1 al 3%, ma ci sono anche delle eccezioni molto più succose, come per esempio NordVPN al 50% o il sito di Wondershare al 15%. Noi ad esempio facciamo la prova con, non lo so, Dyson all'1,5%, ci aprirà quindi la pagina dedicata a quel cashback con le informazioni specifiche, ad esempio ci informa di eventuali restrizioni e del tempo di accredito del cashback sul nostro account e premendo su vai al negozio verremo reindirizzati sul sito dell'acquisto con il referral attivo per ricevere il cashback, quindi sostanzialmente effettuiamo una spesa e quella percentuale di soldi ci ritorna, ci viene applicata come sconto. Successivamente dal portale dedicato del nostro account ci sarà un bottone per prelevare il cashback accumulato una volta accreditato tramite Paypal o bonifico bancario, potrete utilizzare queste due entità per risparmiare veramente tanti soldi. Adesso torniamo al video. Queste sono le dimensioni e peso attuali dell'iPhone 14 per avere un riferimento, si prevede tuttavia che l'iPhone SE4 dovrebbe essere più leggero del 14, di circa 6 grammi e che quindi peserà 165 grammi. Probabilmente questa differenza sarà dovuta alla presenza di una sola fotocamera e non di due come invece si trovano all'interno dell'iPhone 14. Bisogna però anche vedere su questo design come risulterà una lente singola, questo è un po' un mistero. La cosa abbastanza certa è che l'iPhone SE di quarta generazione dovrebbe vantare una singola fotocamera posteriore appunto da 48 megapixel, se l'avrà soltanto quella principale wide. Per il resto stesso alluminio, stesso tipo di vetro, per quanto riguarda il processore che monterà non ne siamo proprio certi. L'iPhone 14 voglio ricordarvi che monta un chip A15 Bionic, che è già vecchio tra virgolette di un anno. Non è ben chiaro se un ipotetico iPhone SE di quarta generazione avrà comunque il chip A15 Bionic, cosa che sinceramente io ritengo, o magari gli metteranno un A14, quindi di un anno ancora prima, perché Apple dovrà stare attenta comunque a non proporre una scelta che è già obsoleta per il mercato che corre, di differenze con l'iPhone 14 ce ne sarebbero già per quanto riguarda le fotocamere appunto. E c'è anche chi sostiene che sull'iPhone SE 4 arriverà il tasto azione, che abbiamo visto esclusivamente sugli iPhone 15 Pro. Ovviamente se questo dovesse essere, la sua uscita non avverrebbe nel 2024, ma avverrebbe realisticamente rimandata al 2025, perché per il momento il tasto azione è una novità troppo fresca per introdurla su un SE. Perfetto, e questo era l'iPhone SE di quarta generazione. Adesso parliamo degli altri modelli. Iniziano a trappelare anche delle presunte novità su iOS 18, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. L'abbiamo vista divagare in questi mesi, in quest'ultimo anno, soprattutto grazie a ChatGPT, ma in realtà ormai si trova su tantissimi progetti online, e pare che Apple voglia integrare un'intelligenza artificiale basata sugli LLM, che sta per Large Language Models, al suo Siri, che debutterà con iOS 18. Quindi sostanzialmente, per farla breve, comprensibile per tutti, Siri diventerà molto più intelligente e molto più tendente a una sorta di ChatGPT. Tuttavia, si pensa che alcune funzioni di questa intelligenza artificiale saranno esclusive addirittura sugli iPhone 16, quindi sugli iPhone del 2024, che non sono ancora usciti. Una cosa oramai è quasi certa, sostenuta anche dal giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, che da anni ci azzecca con rumors e anticipazioni, la novità principale di iOS 18 dovrebbe essere l'intelligenza artificiale di tipo generativo, quindi diciamo indipendente, che Apple integrerà sia su Siri, sia in generale nel sistema operativo. Il sistema operativo diventerà più intelligente. I ritardi e la complessità di questo progetto, secondo Gurman, ed effettivamente è plausibile, sta nel fatto che Apple dovrebbe decidere se elaborare questa intelligenza artificiale, tutti questi algoritmi, sul cloud, o in locale sul dispositivo, con tutti i pro e i contro che ne conseguono. Sul cloud sicuramente sarebbe più facile da gestire, però richiederebbe una connessione a internet e aprirebbe i problemi di privacy, invece sul dispositivo in locale la privacy sarebbe al sicuro, però è più difficile da implementare, insomma potrebbe anche alla fine decidere di fare un ibrido tra le due, svolgere alcune funzioni sul cloud e alcune funzioni in locale, come io per esempio penso che alla fine farà. C'è anche il leaker sulla piattaforma XTechRave, che comunque è un leaker indipendente, che sostiene che con iOS 18 arriveranno alcune funzioni di intelligenza artificiali su tutti i dispositivi, anche quelli più anziani, tra virgolette quelli già in commercio tramite server, quindi tramite iCloud, e invece sul nuovo iPhone 16 e iOS 18 arriveranno delle ulteriori funzioni di intelligenza artificiale generativa locali sul dispositivo. Ovviamente immaginarci dove Apple potrebbe introdurre questa intelligenza artificiale generativa è veramente un aggo in un pagliaio, si presuppone che l'applicazione Messaggi potrà generare in automatico dei messaggi basati sulla conversazione, che Apple Music potrà creare intelligentemente delle playlist da zero pensate per noi, e addirittura chissà app come Keynote o Pages per la produttività cosa riusciranno a fare. Ovviamente Apple in attesa dell'iPhone 16 starà lavorando anche al chip A18 Pro, che si presuppone praticamente raggiungerà i livelli simili ai chip Apple Silicon per i computer, e ovviamente avrà una parte dedicata proprio per questa intelligenza artificiale. E inoltre si pensa che i nuovi iPhone del 2024, quindi gli iPhone 16 nello specifico, gli iPhone 16 Pro, presenteranno un altro bottone azione, proprio accanto a quello che c'è già, quello che ha sostituito nell'iPhone 15 Pro, il vecchio Switch suoneria, che si chiamerà Capture Button, e per ora sappiamo soltanto questo. Non sappiamo se sarà un bottone riprogrammabile o se avrà qualche funzione specifica. Sempre parlando dei nuovi iPhone 16 dell'anno prossimo, i bottoni ha stato solido, che ne avevamo già parlato sul mio canale, in realtà erano previsti per gli iPhone 15 Pro e Pro Max di quest'anno. Sostanzialmente i bottoni a stato solido sono una nuova tipologia di bottoni, in realtà non è così nuova, che di fatto non sono cliccabili, non sono dei veri e propri bottoni, ma sono dei bottoni soltanto superficialmente, senza la possibilità di fare click, ma semplicemente in grado di rilevare la pressione sopra di essi. Proprio come il trackpad dei MacBook. Se voi ci fate caso, quando il MacBook è spento e cercate di cliccare il trackpad, non si clicca, perché in realtà il trackpad non va su e giù, il click che sentite è virtuale, è semplicemente il Taptic Engine che risponde alla vostra pressione e vi fa sembrare di cliccarlo. Ebbene, questa tecnologia dovrebbe arrivare anche sui bottoni degli iPhone 16 a questo punto, 16 Pro dell'anno prossimo, perché uno dei fornitori hardware di Apple, Circus Logic, ha comunicato che questi bottoni a stato solido erano previsti per quest'anno, per il 2023, quindi per arrivare su questi dispositivi che ho in mano, ma sono stati un po' cancellati all'ultimo, non si sa esattamente come mai, probabilmente perché Apple voleva lavorarci ancora un po', e quindi potremo vederli l'anno prossimo. Questo, nello specifico, darebbe dei vantaggi sicuramente per quanto riguarda le certificazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere, perché non avere dei bottoni fisici significa ridurre ancora di più la presenza di microfessure nelle quali si possa insinuare l'acqua, la polvere o qualsiasi cosa. Arriviamo adesso a una novità già tangibile, questo non è un rumor, è un fatto. iOS 17.2 Beta 2, che è già disponibile non per il pubblico, ma per gli sviluppatori, finalmente introduce nei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max la possibilità di registrare video spaziali, quindi video tenendo conto degli aspetti tridimensionali dell'ambiente dove ci troviamo, che quindi ovviamente potranno essere visualizzati tramite l'Apple Vision Pro, che dovrebbe essere rilasciato nel 2024, ragazzi, non manca così tanto. E infatti Apple si sta preparando, aprendo la fotocamera con la nuova versione di iOS 17.2 Beta 2 sugli iPhone 15 Pro e Pro Max, compare questo bottone che permette già di registrare dei video spaziali, già visualizzabili in un certo modo comunque su macOS Ventura. Fatemi sapere se volete un video dedicato su questi nuovi video spaziali. Apple nello specifico afferma che per ottenere i migliori risultati durante la registrazione dei video spaziali, l'iPhone dovrebbe essere mantenuto perfettamente stabile in un orientamento orizzontale, niente video verticali per Instagram, e che il video per il momento viene registrato a 30 fps e qualità di 1080p, occupando 130 MB per ogni minuto di archiviazione, che in realtà non è tanto, anzi. E sempre parlando di Apple Vision Pro, qualora vi siate persi il mio video riassuntivo su tutte le sue novità, andatevelo a recuperare perché è uno dei video migliori che abbia mai fatto a mio parere. Non è ancora stata commercializzata la prima versione, ma già è stato rilevato che Apple stia lavorando alla seconda versione, all'Apple Vision 2. Il progetto ha un nome in codice, come per l'iPhone SE a inizio video, e si chiama Project Alaska, e l'identificatore del dispositivo si appella a N109. Di estetica dovrebbe essere molto simile a quello di prima generazione, tenete presente che comunque non abbiamo dei render della seconda generazione, quindi possiamo soltanto immaginare. Dovrebbe mantenere la stessa estetica, la stessa curva e la stessa posizione dei pulsanti del primo headset, dovrebbe essere diversa la configurazione, il posizionamento degli elementi audio, quindi delle cuffie, degli speaker e dei microfoni. Senza contare che nella seconda generazione dovrebbe essere supportato anche uno speaker esterno. Non è chiaro se è soltanto uno speaker esterno specifico che verrà commercializzato da Apple, oppure in generale supporterà uno speaker esterno qualunque. Un'altra differenza fondamentale riguarda le cinghie posteriori. Il meccanismo con cui si stringe la nostra testa dovrebbe essere stato semplificato, e in generale per quanto riguarda accessori e sensori, l'Apple Vision di seconda generazione dovrebbe presentare la bussola, un sensore di luce ambientale, un magnetometro e un giroscopio. Supporterà il Wi-Fi, il Bluetooth 5 e l'audio a bassa latenza, chiamato anche ULLA. Per quanto riguarda la sua formazione hardware nello specifico, avrà ovviamente i due display microLED, quelli posizionati sui nostri occhi, una fotocamera TrueDepth per riprendere l'esterno, quattro fotocamere CV, quindi Computer Vision, due fotocamere RGB per dare colore alla scena. Per il momento ovviamente abbiamo delle informazioni molto vaghe sulla seconda generazione, perché non abbiamo neanche quelle complete sulla prima, e si pensa che questa seconda generazione entrerà in fase PVT, quindi Product Validation Testing, che non è la fase di rilascio, è una fase antecedente a quella di rilascio nel 2025. Questo significa che dovremmo vederlo in commercio se passerà tutti questi test nel 2026, 27. Staremo a vedere innanzitutto come andrà l'Apple Vision Pro di prima generazione e come si evolverà il progetto nel suo insieme. E per il momento ragazzi, queste erano tutte le novità dei prodotti Apple non ancora rilasciati. Spero di avervi fatto un riassunto interessante e spero di aver stuzzicato la vostra curiosità. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la novità che avete apprezzato di più. Io vi ricordo ancora una volta ovviamente di controllare Letyshops per essere sicuri di ottenere un cashback su tutte le spese che effettuate nei negozi online supportati sul web. Trovate ovviamente anche per questo tutti i link in descrizione. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fatti siete dei grandi io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.